Il Movimento 5 Stelle di Pescara chiede una risposta concreta, un sostegno al commercio cittadino e tariffe agevolate per l'occupazione di suolo pubblico. Sola è così? Sì, infatti noi oggi siamo qui a margine della decisione che ieri il Consiglio Comunale ha preso di prorogare l'autorizzazione dei parklet per tutte le attività commerciali di somministrazione di cibo e bevande fino al 31 ottobre 2022. È un provvedimento che in realtà abbiamo fortemente contestato perché consideriamo superficiale e inefficace, perché non risolve in alcun modo un problema né rappresenta una vera agevolazione. Perché da una parte il Comune così facendo dice agli esercenti che potranno continuare a utilizzare i parklet fino al 31 ottobre, dall'altra però si dice che dal 1 aprile, con la fine dell'emergenza sanitaria, si dovrà cominciare a pagare la tariffa piena per l'occupazione di suolo pubblico per questi parklet, ignorando che in realtà le attività commerciali vengono già da due anni di grave crisi, di gravi difficoltà, di pesanti restrizioni e non si può certo ignorare che se è vero che da una parte finisce la crisi sanitaria, dall'altra già da qualche settimana è iniziata un'altra crisi, che è quella del caro bollette che sta già mettendo in difficoltà chi di difficoltà ne ha vissute già tante. Infatti la nostra proposta, che è stata incredibilmente bocciata ieri in Consiglio Comunale, ma sulla quale torneremo, era quella appunto di regolamentare e disciplinare in pianta stabile l'utilizzo dei parklet, perché ormai rappresentano un elemento riconosciuto da tutti, che può essere quindi acquisito come un vero e proprio elemento del patrimonio e dell'arredo urbano cittadino.